Nella giornata internazionale delle migrazioni che Papa Francesco ha celebrato ieri in Vaticano, è drammatico il bilancio delle ultime ore nel Mediterraneo. Più di 200 persone arrivate a Lampedusa in meno di 24 ore, nove barchini, uno dietro l'altro, ognuno con 20-25 migranti, sbarcati direttamente in porto o intercettati a poche miglia dalla costa. E poi nessuna notizia del barcone con una cinquantina di persone che si era rovesciato davanti alle coste di Misurate, Libia. Potrebbero esserci infatti decine di vittime, visto che non è stata trovata neanche l'imbarcazione, mentre sono sbarcati proprio nel paese africano i 70 a bordo del gommone che chiedeva aiuto da più di 80 ore senza che nessuno intervenisse. L'assenza di soccorsi nel Mediterraneo ha scatenato le reazioni delle ONG. Se non volete farlo voi lasciateci salvare la gente in mare, l'appello di Mediterranea, ferma perché con entrambe le navi sotto sequestro. Una notte quindi senza sosta a Lampedusa, con arrivi incessanti di uomini, donne e bambini su piccole imbarcazioni di legno partite dalla Tunisia con a bordo magrebbini ma anche subsahariani, che continuano ad arrivare anche e soprattutto per il mare piatto degli ultimi giorni. E anche noi, troppo pressi dal preservare il nostro benessere, rischiamo di non accoglierci del fratello e della sorella in difficoltà. Ma come cristiani non possiamo essere indifferenti di fronte al dramma delle vecchie e nuove povertà, delle solicitudine più buie, del disprezzo e della discriminazione di che non appartiene al nostro gruppo. non possiamo rimanere insensibili con il cuore anestetizzato di fronte alla miseria di tanti innocenti. Non possiamo non piangere, non possiamo non reagire. Chiediamo al Signore la grazia di piangere, quel pianto che converte il cuore davanti a questi peccati. Se vogliamo essere uomini e donne di Chiedio, come chiede San Paolo a Timotio, dobbiamo conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento. Il comandamento è amare Dio e amare il prossimo. Non si possono separare e amare il prossimo come se stessi vuol dire anche impegnarsi seriamente per costruire un mondo più giusto, dove tutti abbiano accesso ai beni della Terra, dove tutti abbiano la possibilità di realizzarsi come persone e come famiglie.